Si può guardare, si può pensare, non sei bello di noi, non sei peggio di noi, ma sei meglio di noi. E spiegami perché, e a cosa salvo noi, per finirsi come ormai, cagli come noi, 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 bagniamo noi. Pagli come noi, pagli come noi, cagli 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 come noi. Allora Luca Lubrano qui ad Acquamorte per girare un video del nuovo disco che sta per uscire. Sì, il nuovo rischio si chiama Paghiamo Noi, questo qua è il pezzo, il singolo che stiamo lanciando e parla appunto della situazione economica problematica che abbiamo qui in Italia. Stiamo girando questo video a Monte di Procida perché appunto è il nostro paese e lo sentiamo proprio dentro questo paese. Allora abbiamo girato delle scene in via panoramica e adesso siamo qui ad acqua morta. Speriamo che tutta la popolazione ci segua e che vada avanti questo bel progetto. E poi ce lo passi questo video per metterlo su montediprocida.com? Sarete i primi ad avere il video, non c'è nessun problema, anzi saremo veramente lieti di far salvo la montediprocida.com. E una cosa, la band è montese o viene da tutta la zona? Abbiamo io che sono di Monte di Procida, il chitarrista solista che è di Monte di Procida, poi abbiamo il bassista che è di Caffella e il batterista che è di Varcaturo. Diciamo che raggruppiamo un po' tutta la zona flegrea. Allora lo vediamo prossimamente su montediprocida.com il nuovo video di Luca Lubrano che si chiama? Paghiamo noi! Questo qui è il pezzo del nuovo disco. Spero piaccia a tutti! E dimmi ancora un po', dov'è che abbiamo sbagliato? Noi sì che abbiamo volato, noi sì che abbiamo sbagliato, ma sei peggio di noi, ma sei peggio di noi, sei peggio di noi. Noi sì che abbiamo sbagliato, ma sei peggio di noi, sei peggio di noi, sei peggio di noi, sei peggio di noi.